Antonio Frazzitta, buongiorno, il canale si chiama Viaggiare in Moto e quindi questo video è dedicato a tutti coloro che amano viaggiare in moto e viaggiare in moto ovviamente in Europa, quindi aspetto nei commenti sicuramente quali possono essere i vostri prossimi viaggi in programmazione, Covid-19 permettendo, e qual è il vostro sogno nel cassetto per quanto riguarda i viaggi in moto in Europa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.